Buongiorno a tutti oggi voglio parlarvi di questo bellissimo libro il commesso di Bernard Malamud questo libro secondo me molto importante pur non essendo il suo più importante famoso perché va a definire in maniera secondo me molto efficace la letteratura di Malamud che è stato uno dei più grandi scrittori ebrei americani direi alla stregua di Solbello e di Philip Roth la letteratura di Malamud in questo romanzo va a definire in maniera molto efficace un'ambientazione che è quella di Brooklyn a New York negli anni 50 un'America in piena esplosione economica ma in cui ci sono sacche di povertà di persone che in qualche misura non ce la fanno non riescono a tenere il passo di questa economia così dirompente e Malamud per descriverla ovviamente attinge a piene mani alla sua autobiografia lui è nato nel 1914 a Brooklyn a New York e lui stesso è un ebreo di seconda generazione e in questo romanzo appunto definisce la storia di una famiglia ebrea di seconda generazione il protagonista Morris è un sessantenne che ha un piccolo negozio di alimentari e che combatte quotidianamente per la sopravvivenza e soprattutto anche combatte con i propri ricordi con la propria insoddisfazione con la propria incapacità di riuscire e ovviamente anche la moglie gli rifaccia la sua incapacità di essere stato all'altezza delle aspettative di aver fatto di aver costruito qualcosa e poi lui si deve confrontare anche con la comunità in cui vive in questa comunità ci sono tante persone povere ma ci sono anche delle persone che sono riuscite i vari negozianti vicino a lui per esempio uno che viene di cuori è particolarmente ricco ha un grande successo il figlio che lavora dentro ha una giata posizione e in qualche misura la fa anche pesare nei confronti della figlia di Morris che invece deve lavorare e ha dovuto abbandonare gli studi per poter aiutare i genitori a sopravvivere e lo sguardo di di Morris quando vede il negozio di liquori del suo vicino così luminoso accogliente caldo pieno di clienti in qualche misura mi ricorda i quadri di opera questo quadro in cui si vede la vetrina illuminata dal buio della strada le parole di malamud sono veramente delle pennellate con poche parole lui va a definire una situazione e ne darà non solo i tratti fisici definendo bene la spazialità di quello che va a descrivere ma anche l'animo di chi sta osservando che viene trasmesso a noi con veramente con delle parole puntuali ed efficaci ma l'altra caratteristica di malamud è ovviamente la capacità di tratteggiare anche i personaggi questi personaggi che sono non solo veramente tridimensionali vivi palpitano attraverso le parole che noi leggiamo per esempio Morris è un personaggio buonissimo amato nella sua comunità incapace di commettere cattive azioni ma che durante il libro evolve lui una persona che non prova rancore che non prova invidia però poi alla fine si prova ad avere dei pensieri che lo portano a doversi pentire non voglio svelarvi troppo perché magari qualcuno di voi non ha visto il non ha letto il libro però questi suoi pensieri lo portano doversi pentire e quindi a confrontare anche col male che in lui come in tutti noi e poi c'è l'antagonista una caratteristica della letteratura di malamud e contrapporre un protagonista un antagonista e poi fare sì che in qualche modo i due dove debbano collaborare per superare un'avversità per portarsi per portare a creare qualcosa di nuovo ed è quello che succede in questo libro l'antagonista frank è un non ebreo è un americano e malamud riesce a tratteggiare in questa in questo personaggio veramente la capacità dell'america di sollevarsi questo frank non è uno sconfitto è uno che ha cercato il sogno americano e non è riuscito a raggiungerlo però grazie alla bontà e alla generosità di Morris riesce a risollevarsi in pochi tempo riesce a imparare riesce a conquistarsi la fiducia non solo della famiglia ma di tutta la comunità è apprezzato e grazie a lui questo negozio questo negozietto riesce a in qualche misura a fiorire nonostante la vicinanza di altri negozi che hanno aperto che gli creano magari dei problemi di competizione però lui riesce veramente a dare una speranza a questa situazione poi ovviamente il buono non è cattivo il cattivo non è buono e anche in questo caso questa l'ambiguità del personaggio di frank è ovviamente non ci porta mai a raggiungere quello che noi speriamo magari tutti speriamo che tutto finisca bene ma non è così il personaggio è complicato è ambiguo come ho detto e quindi ovviamente si creano delle situazioni che poi portano la storia a quasi implodere in se stessa fino quasi alla redenzione finale e secondo me la chiave di lettura di questo libro è il terzo personaggio di cui voglio parlare che è la figlia di Morris un personaggio direi sconfitto un personaggio che deve lavorare per aiutare i genitori che non può studiare che conosce l'amore ma poi viene tradita che viene usata magari in alcune situazioni e non riesce anche con la sua inesperienza a doversi confrontare esattamente con quello che è la realtà di un'america e di alcune persone che ovviamente magari senza scopoli riescono ad approfittarsi di lei però la sua rettitudine morale la sua capacità di superare le situazioni in questo non mi sento completamente in grado di condividere il pensiero dello scrittore ma la mood perdona al suo antagonista delle cose delle violenze che io faccio fatica a digerire però ovviamente questo è il pensiero dello scrittore noi dobbiamo accettarlo e anche magari riuscire ad apprezzarlo in quanto tale comunque il personaggio della figlia di Morris riesce a superare queste queste situazioni veramente terribili senza doversi macchiare senza dover scendere a compromessi con la propria morale e questo personaggio poi ci conduce fino alla fine del libro fino alla redenzione finale ed è questo secondo me un personaggio che magari rimane sotto traccia in tutto il libro ma veramente ci permette alla fine di arrivare con una sorta di speranza con una sorta di compiacimento per non esserci lasciati andare alla disperazione e in questo voglio anche agganciarmi alla biografia di malamud perché malamud è stato sposato con sua moglie per tanto tempo e la moglie di malamud è stata sempre la sua prima lettrice sempre corretto le bozze ha sempre trascritto sui romanzi e questo lavoro assolutamente fondamentale per una buona per la buona uscita di un libro secondo me è rimasto sempre nascosto sempre sotto traccia ma è stato di una importanza fondamentale e trovo giusto citarlo perché ovviamente la compagna di una vita di una malamud e gli ha permesso di essere di diventare quello che poi è stato un'altra breve parola sulle sulle opere di malamud malamud come dicevo il suo libro più importante non è questo ma è stato il migliore romanzo che racconta di un giocatore di baseman molto dotato che poi si deve diciamo confrontare con le proprie debolezze ne hanno tratto un film nel 1984 con robert redford che sicuramente avrete visto ma malamud era anche molto conosciuto per le sue per le sue storie per le sue brevi storie le sue novelle diciamo che raccontavano veramente con poche parole una situazione ambientata in una situazione urbana in cui c'era un ghetto ebraico con questi personaggi magari un po stereotipati che però era risultavano molto efficaci molto molto pungenti e lui veramente ha raggiunto la notorietà con tutte queste storie che poi sono state pubblicate in un unico volume io in caso non l'abbiate letto vorrei mi auguro vorrei veramente apprezzare questo bellissimo romanzo e di cui è stato tratto anche un film nel 1998 meno famoso del migliore perché non è stato diciamo girato con attori così importanti come Robert Redford ma comunque un film che secondo me vale la pena di vedere e comunque vi ringrazio per l'attenzione e un saluto e alla prossima